Assessore, tantissimi eventi ovviamente legati a questo salone e c'è anche una grande festa che poi troverà spazio in Piazza dei Ferrari come non sarà mai vista. Sì, devo dire che ci stiamo lavorando molto per questo salone nautico, un salone nautico che vuole far vivere veramente Genova come città della nautica, quindi c'è a fare in modo davvero che i vari genovesi e anche visitatori della nostra città vivano ogni sera un evento, una manifestazione o anche più concomitanti, quindi una ricchezza che nei tre anni sta vivendo input sempre maggiori con il clou, cioè domenica 22, dell'evento nazionale che viene regalato per la nostra città. Quindi l'invito è di vivere e di anche farci sentire proprio quello che noi genovesi si vive nella nostra città come città della nautica, con tante feste e anche con le manifestazioni, con anche giri nel nostro porto, quindi ecco anche novità proprio di un vissuto vero, di tutto quello che come salone nautico si sta facendo e negli anni futuri siamo sicuri che con un lavoro di anche forte sinergia con gli stakeholders ogni anno va in aumento, in miglioramento.